La squadra è sempre dura da giocare soprattutto qua alla Stella Azzura, loro hanno grossi tiratori quindi dobbiamo stare attenti anche quando stavamo 5-1 che sembrava una partita finita però alla fine bene, abbiamo tenuto bene, abbiamo fatto l'ultimo gol un po' fortunoso però è una buona prestazione della squadra. Noi puntiamo a vincerlo questo campionato anche se ancora è all'inizio molte squadre hanno toppato qualche partita all'inizio ma sappiamo che non è facile noi intanto continuiamo a fare tre punti alla volta e vediamo poi se gli altri ci riprendono.